Benvenuti ragazzi sono Gizios e oggi riprendiamo con Mega Master Force 3 Black Ace L'ultima volta ce la faremo affermati a questo strano dialogo perché io avevo sbagliato a far salva e non l'avevo salvata e quindi... Stasera sta brillando come al solito meravigliosamente Presto conferirà a me e alla mia organizzazione, il dealer, un grande potere Non siete d'accordo Heartless? Sarà come voi dite Mr. King Heartless, scusate, Heartless Scusate la mia pronuncia schifosa Che poi è senza cuore, Heartless Regina Tia, check Avete svolto un ottimo lavoro agli studios WBG Mi avete soddisfatto? Grazie mille Mr. King Mr. King è rimasto molto soddisfatto perché la quantità di crimson emessa dai ice di quadri è stata molto più da prevista Una volta che il mio vigenio sarà combinato con sufficiente crimson, la stella calente rossa o Meteor G farà ciò che vogliamo Ed allora la gente di questo periodo si ingioncherà di fronte al dealer Non ci sarà nessuno che si opporrà ai nostri desideri una volta che avrà spiegato loro cosa vi accadrà se la Meteor G colpisse la terra Persino gli umani, stupidi come sono, rimarranno in silenzio Sono state già ricevute le minorevoli mail da parte di ragazzi che vi esprimono la loro più profonda approvazione e gratitudine Ne sono alquanto soddisfatto, tutti i miei piani procedono splendidamente, nessuno al minimo sospetto su di me Ed ho acquisito un potere arcano Il momento del giudizio è vicino Noia Voglio solamente sentirti darmi il permesso di fare fuori i Mega Man Bene bene, siamo di cattivo umore? Calmati Jack, sei parecchio maleducato nei confronti di Mr. King Diamine, fatti gli affari tuoi Jack, cosa ti avevo detto? Indagare su Mega Man è stata una perdita di tempo Perciò lasciaci andare a dare una bella lezione Possiamo eliminarlo mentre non si aspetta un attacco Se scoprissi i nostri piani Jack, smettila Mr. King, la prego di scusare la maleducazione di Jack Jack, ti sei rammollito a stare in quella scuola con dei ragazzi della tua età? Che hai detto? I miei piani sono perfetti Fino in quanto terrai la bocca chiusa non ci sarà alcun problema Ed una volta che avrò quella stella cadente nelle mie mani Tutti quegli insignificanti umani si inginoccheranno di fronte al diere Sì, gli umani sono creature deboli, fragili e sciocche Ecco perché hanno sempre tanta fretta di farsi dei brother E creare nuovi propositi con loro Gli umani hanno bisogno di me che li governi Darò a questo pianeta una nuova vita Gli mostrerò una vera ragione di vita Tutti quegli sciocchi umani saranno sotto il dominio del dealer Una volta che avrò la teo regina nelle mie mani Heartless, i miei ordini Sì signore, ecco gli ordini di Mr. King Regina T e Jack, voi continuerete a raccogliere dati su Mega Man Continuerete anche la raccolta del Crimson Ricevuto Joker, Mr. King è andato a darti i tuoi ordini privatamente Sei pregato di rimanere fino ad allora Ricevuto Quindi lui si chiama Joker Ragazzi stiamo facendo un massimo di carte Allora abbiamo La regina Il Jack Joker Ace Che è il Joker Che sarebbe il Jolly se non sbaglio Ace Che è l'Asso King che è il Re Ce li abbiamo tutti Stiamo raccogliendo Crimson sempre più rapidamente È solo questo studio di tempo che la metodologia ci sia nostra Adesso la nostra priorità nei nostri piani Sarà schiacciare il quartiere nazionale della UAS e della polizia Satella Una volta che avremo ottenuto sufficienti dati su Mega Man La nostra arma sarà completa E quell'arma ci darà il potere di schiacciare la UAS e la polizia Satella Regina Tia Non perderò di vista l'obiettivo Sì signore Tre giorni dopo Dove siamo qua? Che posto è mai questo? Davvero? Un bus? Cioè un treno? Quello che è Ah! Ah! È la città di classe Quella di cui parlavamo prima E quindi siamo andati qui per la gita di classe Però io non ci sono Perché no? Guardate Non ci sono io Ci sono Luna Bud Zack Jack E altri E quindi Regina Tia Sembra che ci siete tutti Wow Finalmente siamo arrivati Non posso crederci che siamo andati ad Alohaha Alohaha? Davvero? È così bello che non riesco a credere che sia una parte di Lektopia Cieli blui immensi oceani Fa troppo caldo Ragazzi Datevi una calmata Ah! Per favore Siamo solo felici Beh In fondo lo scopo di una gita scolastica consiste nello scaricare tutto lo stress che si è accumulato a scuola Lei è quella che sembra la più stressata Ma è un peccato che Giorno sia potuto venire con noi Ah! Ah beh Non che volessi in particolar modo che venisse con noi È solo che... È solo mio dovere come capoclasse di tenere le righe dei miei compagni Ha detto che ci raggiungerà dopo vero? Non posso dirlo ad alta voce ma... Userà la sua capacità come Megaman per arrivare qui, vero? Ah! Capisco Oh! Megaman sta arrivando? Ah! Quindi non sono potuto venire E dove sono andato io? Oh! Sono con Ace! Geo scusa se ti ho fatto far tardi per la gita da... Alohaha Non mi impresta sperare cos'è Alohaha Ace non mi importa di essere iniziato per la gita Hai fatto così tanto per Sony, Abel e gli altri Sono felice di aiutarti Questo significa molto per me Geo Puoi dirmi cosa è successo davvero allo studio su WBG? Sto indagando insieme ad un team della polizia Satella Ed ho compreso il solo modo Che il solo modo per scoprirlo è chiederlo a Megaman O piuttosto a te Geo Ragazzo il fatto che sappia tutto di noi si sta facendo irritante Ci ho sentito Omega Xis Ahahah Sembra che in origine fossi un alieno Voi sapete anche questo? Non sorprenderti La rete di informativa della polizia Satella è impareggiabile Ma non è importanza Wow Cosa vuoi sapere? Quando in Remigaman ti è successo qualcosa di strano? Strano? A tirare il ferro sì Il mio corpo è diventato pesante È stato terribile Capisco C'è qualcosa da dire? Allora dilla Tu ed il tuo wizard pensate sempre troppo Tu ed il tuo wizard pensate sempre senza mai parlare Questo mi dà i nervi Non ho mai incontrato un wizard più impaziente Tappati la bocca Calmati Mega Quindi hai lottato molto volto contro il tango di wizard fuori controllo Corretto? Sì Quando un wizard va fuori controllo Viene lasciato un enorme mole di rumore Il rumore è molto pericoloso per gli seri UEM Un wizard che assorbe troppo rumore potrebbe venire cancellato Cancellato? Santo cielo Quando un dispositivo offre controllo Le sue onde eme possono corrompersi Ecco così in realtà il rumore Quindi da ora in avanti dovrei stare attento Ma per adesso ti darò il mio programma ACE Programma ACE? Che cos'è? È l'arma speciale della polizia Satella Ed è anche il mio vanto ed orgoglio Davvero? Sei sicuro che posso avere una cosa simile? Sei il solo a cui potrei mai affidarlo Considera un regalo di compleanno anticipato Ok? Dovrei dirti cosa fa? Semplice È un dispositivo che ti conferisce l'abilità di controllare il rumore Lo sto inviando al tuo antarvg Ok, inviato Già riceve l'abilità potenziante programma ACE Eppure Mega Man ha già subito una considerevole quantità di rumore Ma non ha subito effetti visibili Mega Man è proprio come avevo immaginato ACE Ah scusa Ecco un altro regalo per farmi perdonare per averti fatto far tardi alla gita Chiave Che cos'è? Chiave SP Vabbè, chiave SP1 Cosa fa questo pop-up? Ti conferisce l'accesso alla strada All'onda All'onda astrale Cos'è l'onda astrale? Onda astrale Sì, la strada onda presente nello spazio Oh mio Dio Spazio? Basta la parola spazio per attirare immediatamente la sua attenzione Dal punto più elevato della strada onda di Ecorince Potrai raggiungere l'ingresso dell'onda astrale Meglio se stai in guardia, in quell'area sono presenti numerosi virus Sei sicuro che posso andarci? Non è un problema che un ragazzo come me acceda in un posto del genere? Comunemente un ragazzo non vorrebbe mai consentito l'accesso Ma come ti ho detto prima, te lo devo per averti fatto far tardi Puoi raggiungere l'alohaha in poco tempo se utilizzi un'onda astrale Grazie Ace L'onda astrale è una strada onda nello spazio Non vedo l'ora Haha, il tuo entusiasmo mi fa venire Voglio di farci un salto Beh, divertiti alla gita scolastica Grazie ancora Ok miga Facciamo il cambio d'onda M e raggiungiamo l'onda astrale il più presto possibile Se proprio dobbiamo Oddio ragazzi siamo nello spazio Questa è l'onda astrale Non è fantastica meglio, è una strada d'onda nello spazio È una vista molto nostalgica per un ammeiano come me Ace è fantastico Mi ha aiutato a realizzare il mio sogno di andare nello spazio Gio, capisco che sei emozionato ma dovremmo muoverci In questo posto dovremmo trovare un'area che ci porti giù ad alohaha Hai ragione D'accordo, andiamo ad incontrare gli altri ad alohaha Ok quindi Salvia Un messaggio in arrivo da Ace Non ho fatto ancora niente Allora, come ti sembra l'onda astrale? Ad ogni modo, hai usato l'anelotte per il programma ischi che ti ho dato? E ripaggiandolo ti verrà mostrato in alto a destra il livello rimuola Il livello della barra dell'area secondo di come tenendo approcita nella lotta Finché si rimane entro il 99% non sono visibili effetti rilevanti Invece se supera la sua soglia del 100% puoi restare molto attenti Sono stati osservati la comparsa di strani fenomeni Ad esempio potresti subire un attacco anche quando l'ampeggi Si effettua un attacco che si suppone che spinga il nemico Potrebbe accadere che venga attirato verso di te Oddio! Inoltre, ma questo non ci è stato confermato Il rumore può causare un'alterazione della conversione di dati acquisiti Facendo di acquisire dati non collegati al nemico eliminato Abbiamo registrato alcuni rapporti riguardo a questa situazione Non siamo sicuri che le condizioni aumentano il livello di rumore Ma se si usano carte non smorzate ed elementali per eliminare il virus La differenza tra il potere d'attacco della carta e gli HP del virus In qualche modo sono un po' regalato e aumentano il percentuale del rumore Ti consiglio a cautela Ma so che riuscirai a gestire il rumore Per lasciarti che questa cosa ti butti giù e non esagerare Ok, è parecchio complicato a quanto pare Se ho capito bene Praticamente il rumore ci da Conferisce delle abitazioni speciali Cioè possiamo colpire anche un nemico che lampeggia O venire colpiti alla vostra volta E possiamo acquisire carte che non c'entrano ancora al nemico colorerato Ok, fantastico Ma se ti è piaciuto lasciate un commento Mettete un viaggio, iscrivetevi E noi raggiungiamo l'unione della prossima parte Quindi, bello, ragazzi Scusi, tenuto qua Ma smettati di continuare a aprire questo caglio di porta a caso Dove è che la porta? E guarda, guarda E non può scendere Non può scendere Oh, ma guarda Oh, ma guarda Ma guarda la schiena Ma guarda la schiena Ma guarda la schiena Ma guarda la schiena